Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video che chiude il cerchio di questa stagione all'Orodigo È stata una stagione davvero fantastica, ringrazio nuovamente la società, i compagni davvero per avermi accolto fin dal primo momento Per avermi sempre fatto sentire a casa Vi lascio a questa raccolta di gol messi a segno da me quest'anno Scrivete nei commenti qual è secondo voi il gol più bello E guardate il video fino alla fine perché ci sarà un indizio su cosa farò la prossima stagione Partiamo col video L'arca è il gioco per Morello che gioca ancora con la sola, va a pescare a sinistra Fabio Di Mauro che vuole il centro col destro Fabio Di Mauro E arriva il primo gol con la maglia del Rovigo da parte del numero 9 che apre le danze e fa 1-0 Palla pericolosa, quanto efficace da parte del capitano Kinaia, Fabio si fa tutto il capo, Fabio Di Mauro Per la doppietta Guardando, va da Kinaia Il 17 va a servire tutto a destra Di Mauro poi si inserisce, Fabio va in uno contro uno con Naso Si sposta la palla sul sinistro di Mauro Al minuto numero 40 Sblocca una partita maledettamente complicata Più del previsto, proprio lui Capita anche Kinaia, cerca Garofalo che non lavora bene questo pallone Se lo va a riprendere Rossi, ma se lo va a riprendere anche il 17 Che va dal 9, che sguscia via su Colombo Fabio Di Mauro col tunnel sul portiere Una giocata da urlo Il tutorial su come ammazzare le partite Scritto, diretto e messo in scena Dal 2002 di Rovigo che ora porta avanti i suoi di due reti Guarda Cioè Sherwood lì di fianco Lo va a servire, il 7 e il 3 dialogano Poi cercano il terzo uomo, lo trovano in Fabio Che va ora in verticale Direzione Garofalo, difende la palla La restituisce a Fabio Di Mauro Che trova la rete del 3 a 0 E ora partita chiusa Guaraldo in conduzione va a pescare Fabio Di Mauro Che sfida Alimadi Un cliente scomodissimo, lo sa il 9 Che preferisce allargare il gioco Direzione Fabio con 2b Che torna da quello con una E arriva la rete di Fabio Di Mauro Che porta avanti i suoi Pisa Va dal suo uomo di fiducia Fabio Di Mauro Il controllo Poi con la sua la sfida Alimadi uno contro uno Si sposta la palla sul destro Sguscia via Fabio Di Mauro E arriva la rete La doppietta personale Da parte del 2002 del Rovigo Che riporta avanti i suoi di una rete Seguiamo Garofalo Che va da Mariotto Che pensa alla conclusione Mariotto Di Mauro Subito La reazione da parte di Fabio Di Mauro Col suo ottavo centro in questo campionato E arriva col tacco Con la solita assistenza di Mariotto Da questi Ezequiel Morello Fabio sinistro Destro E arriva il controsorpasso 8 minuti di gioco Da panico E parkour Mariotto Ezequiel Morello Giocatore italo-argentino I giochi con la sola Poi cerca l'aiuto di un compagno Che arriva in Fabio Di Mauro Che la sfida a Bruscaini Uno contro uno Fabio Di Mauro Il sinistro ad incrociare A battezzare L'1-0 del Rovigo Sherra va da Ezequiel Morello Il 14 del Rovigo Di fronte a 16 A 17 del Torreia Gli suole in faccia E poi va da Fabio Che allarga il gioco per Sherwood Il numero sull'Ima Sherwood dentro di Mauro Meno di 30 secondi di gioco Ci ha impiegato il capocannoniere Del Rovigo A imprimere il suo marchio di fabbrica Riparte il Rovigo Con Ayrton Mariotto Che cerca un'opzione La trova lì accanto Dove c'è Ezequiel Morello Poi Lotto va in profondità Il Poccio invece va a destra Da Fabio Di Mauro Che va a servire Mariotto Che torna dal 9 Di Mauro Meno di 2 minuti di gioco Sono serviti Al capocannoniere del loro Vigo Per trovare la sua Dodicesima gioia In questo campionato Raffaele Garofalo Fabio Di Mauro Fabio Di Mauro Branca Leona Adesso giro palla Ordinaria amministrazione Per i ragazzi Il mister Mauro Gonzato Chinaia va da Garofalo Che torna dal 17 La palla è ancora buona Fabio Di Mauro Al minuto numero 23 Del secondo tempo Riesce finalmente A ritrovare la rete 13esimo centro Per lui In questo campionato Proprio il 10 Che riparte Innesca a sinistra Fabio Di Mauro Ristabilisce le gerarchie Proprio il 9 Che riporta il loro Vigo Sul livello del mare Riveiro Altro passaggio Sanguinolento In orizzontale Capisce tutto Danny Fabio Il numero Su preguzza Poi share Suola Sul 16 Dentro Di Mauro E arriva il vantaggio Da parte del loro Vigo Grazie a Fabio Di Mauro Doppietta Per lui In questa partita Forza la verticale Capisce tutto Fabio Di Mauro Che può transizionare In avanti Con l'aiuto di share Che torna da Di Mauro Tripletta personale Per Fabio Di Mauro Tre gol consecutivi In una partita Che mancavano Dal 6 di ottobre Nel match Contro la Juvenilia Padova Rossi Dentro Perzini Controllo infelice Il pocio Morello Gli sradica Il pallone dei piedi Poi gli suole in faccia Dunque FDM Il suo destro Para Petkovic Fabio Di Mauro La riapre lui Il numero 9 Del loro Vigo Che dopo il suo calcio Col destro La palla gli ritorna indietro Diventa un gol Facile facile Per centrare L'obiettivo più grande Il campionato di Serie D Intanto seguiamo Chinaia che riacquisisce Il possesso Mariotto Torna da Nicola Chinaia che va al centro Da Fabio Di Mauro Arriva il gol Di FDM Addirittura E tre pari Quando è il ventesimo Raggiunge il pareggio Pasello Lunghissimo A cercare Garofalo Che battaglia con Manuel Medea Lo scarico del 10 Per il 9 Fabio Di Mauro 4 in Coppa Veneto Ed è 4 a 0 Anche all'interno Di questa partita 17 in stagione E l'esultanza La bracalaia Quella che ci avete chiesto voi E' pronto a partire Fabio Di Mauro Spiazza il numero 1 Della Mediatec Club Arenze E stacca forse Definitivamente il pass Per questa storica finale Lo ha Appena entrato in campo Gioca la sfera destra Per Fabio Di Mauro Da questi al poggio Cercano i pertugi giusti Ora i giocatori Del loro Vigo E provano a farlo ora Con Fabio Di Mauro Che gonfia la rete E porta avanti i suoi Dopo il 16 dicembre Mazzucato Di Stefano A lungo in avanti Capisce tutto lo lato Che serve Ciuli Da questi a Fabio Il suo destro Para Zanovello Poi arriva Fabio Di Mauro A rimorchio E sono due Le reti per il loro Vigo Ventesimo in stagione Per FDM 15 in campionato Ed ora dice Io stoi a chi Poi allarga il gioco Per Giacomazzo Davanti a FDM Che si rappropria Della sfera E la gioca a direzione Garova L'attenzione 2 contro 1 Col 10 che torna dal 9 Fabio Di Mauro E Parkour Al Palace for Sant'Anna 3 gol Nel giro di 6 minuti e 30 E ora anche l'esultanza Della canoa Con tutta la squadra Che pagaglia Riceve il poccio da fallo laterale da Mariotto Poi va a destra da Fabio Di Mauro L'1-2 con Garofalo Il 9 poi prova ad accendersi E ad accentrarsi Fabio Di Mauro E sono 22 in stagione 17 in campionato E questo è un gol importantissimo Perché il loro Vigo Per la prima volta nella sua partita È a più 2 Sempre il 14 in conduzione Allarga il gioco Sempre a destra Dove c'è il 9 Che si accentra E poi va da Ayrton Mariotto Sempre per Ezequiel Morello Che cambia gioco Da Garofalo Che torna dall'Italo-Argentino Verticale per FDM Suola per il 14 Che torna da Fabio Di Mauro E arriva subito Il gol del Rovigo Un'azione congegnata alla perfezione L'assista al bacio Un cioccolatino Facile facile Per il gol più semplice Parte esterna della traversa Ma adesso attenzione Si addormenta il Medork Capisce tutto FDM Che contro Tietto Fabio Di Mauro Non perdona Era scivolato in questo caso Proprio Fausto Bettini Sullo scarico all'indietro Se non ho visto male Da parte di Nicolau In ogni caso 24 in stagione Per il Bomber Con la 9 del Rovigo E ora Nuovamente risultanza Check-on Riceve la sfera Dal fallo laterale di Pagano Poi Scodella in avanti Lotto direzione Farinazzo Capisce tutto Chinaia che vince il duello Anche con l'altro capitano Arriva poi FDM E dargli una mano Allarga il gioco Per il 17 Che torna dal 9 Fabio Di Mauro E sono 3 I gol per lui All'interno di questa partita Una tripletta che mancava Dal match da andata in casa Contro la Juvenilia Padova Da quel 6 ottobre E ora sono 25 in stagione Gonzato chiama lo schema Capitano Chinaia Palla in mano Cerca il movimento di qualcuno Si sgancia Fabio Di Mauro Che incrocia la perfezione E ne fa 21 in campionato 26 in stagione Per il classe 2002 Con la 9 sulle spalle Ma seguiamo ora Livieri Che cerca Accenti l'anticipo di Mariotto Che va dal pocio La palla dunque buona Per FDM In uno contro uno Con il 16 Lo fa fuori secco Fabio Di Mauro E sono 3 E forse consegna La Coppa Italia del Veneto All'Eurovigo Grazie a una giocata Grazie a una giocata super Del pocio Tocca anche Sherry Ripulisce FDM Che va da Garofalo Suola il suo destro Parabullo Fabio Di Mauro Sulle spinta E arriva il gol Di FDM Al settimo minuto Del primo tempo Grazie al suo Ventottesimo centro In stagione 22 in campionato Porta le distanze A più 2 Morello Dentro per Sherrude Che torna dal 14 Che allarga il gioco A destra Per FDM Che cerca E trova ancora Sherry 7 E Sherrude Si sovrappone il 9 Lo vede il 7 Fabio Di Mauro C'è anche il tocco Di Raffaele Garofalo C'è da verificare Di chi sia il gol Raffa dice Di Fabio E allora sono 29 In stagione Ragazzi Il video dei miei gol Finisce qui Spero vi sia piaciuto Come al solito Iscrivetevi Commentate Attivate la campanella Mettete mi piace E adesso l'indizio La squadra In cui andro a giocare L'anno prossimo È una squadra Che è stata nominata Più volte nel corso Dei video D'Antimo In telecronaca Però Non è una squadra Che abbiamo affrontato Con il Rovigo Non è facile Di indovinare Però scatenatevi Nei commenti Voglio vedere Chi indovinerà